Affermare la tradizione fiorentina e toscana nel settore del restauro per creare un distretto economico che possa dare alle imprese nuove occasioni di crescita nasce con questa missione il portale Valore Restauro aderendo a questo progetto. Le attività potranno seguire un piano di formazione che possa segnare un modo innovativo di lavorare in un settore storico del territorio. Cercheremo di stimolare un confronto, un networking tra le imprese che saranno iscritte. Inseriremo contenuti atti a aiutarle anche a partecipare a bandi, faccio riferimento all'art bonus ma anche al nuovo codice delle appalti. Inseriremo informazioni utili per il loro lavoro. La piazza virtuale sarà un luogo di scambio, analisi e confronto. Il portale, promosso da CNA, Confartigianato, Confindustria e Lega Copp, è stato accolto dalla giunta della Camera di Commercio per un vasto numero di imprese coinvolte in questo mondo. Nell'area Fiorentina sono 279 le imprese che a titolo principale si occupano di restauro, ulteriori 2.000 se ne occupano in via più residuale, in via secondaria. 2.500 ulteriori si occupano di restauro di beni architettonici ed edilizia. Per questa grande filiera noi proponiamo e lo presentiamo oggi in anteprima un portale dove il servizio di restauro si incrocia con la grande committenza o una piattaforma digitale dove si possono mettere in contatto il mondo della domanda e della offerta di restauro. Il lancio definitivo del progetto verrà il 27 aprile alla mostra dell'artigianato di Firenze.